buongiorno ragazzi breve video su milan monza ma brevissimo proprio perché l'ho vista spizziche bocconi però da quello che da quello che ho potuto intendere il milan la vince di individualità monza onestamente sotto sin da subito stato bravo il milan a indirizzarla subito la partita ragazzi primo gol ragazzi primo gol però dai io continuo a insistere su questo fatto della fase difensiva il primo gol preso dal monza non si può guardare dai non si può guardare questi che guardano questo qua penetrare in aria e far gol ma vabbè lo chiamano calcio moderno io continuo a non essere d'accordo quando valevano i boldini gasparini quagliozzi i bocca fresca i cattaneo e di somma dei bei tempi che furono difensori che o lasciami la palla o lasciami la gamba metaforicamente si intende oggi non sanno proprio difendere squadre zeppe di stranieri e si vede comunque tre punti molto importanti per il milan un milan realista un milan che ha portato la partita a casa senza tanti fronzoli quando ha fondato ha fatto gol il monza giusto qualche azione c'è stata la parata di megnano nel secondo tempo ma nulla di che io penso che adesso al milan abbiano ben chiari gli obiettivi stagionali e concludere la stagione in zona cempio provare a vincere la coppa italia provare a fare strada in europa league anche se ho seri dubbi in merito all'europa league vedo io il mio pronostico l'ho già fatto in merito all'europa league per me la vince ben figa quest'anno fa piacere per il gol di questo ragazzo simic però e qua torniamo se anziché simic si fosse chiamato simice o simi o simo o simetti avrebbe giocato per me no il discorso che facevo ieri per oristanio che per me è un gran giocatore davvero un milan realista un milan che a questo punto penso sia ben conscio degli obiettivi stagionali e farà di tutto per centrarli e finché pioli riuscirà a centrare perché a pioli nessuno non prendiamoci in giro a pioli nessuno ha chiesto di vincere la champions league magari il turno lo poteva benissimo passare secondo me in champions che sono le prime due partite del girone quelle che hanno determinato tutto due partite dove anziché fare sei punti ne hai fatti solo due e lì si è giocato tutto praticamente il milan sarebbe stato sufficiente vincerne una di queste due a Dortmund e in casa con Newcastle partite dominate ma conti fatti concluse sullo 0-0 lì praticamente si è giocato alla qualificazione in champions e di conseguenza i soldi perché adesso si va ai champions per fare soldi mica per vincerla brutta piega ha preso il calcio italiano ragazzi brutta piega brutta piega davvero e questo va a ulteriore merito di una squadra l'Inter che è qualche anno che è nettamente quella che va meglio dell'italiano in coppa avranno altri problemi ma hanno un'altra mentalità rispetto alle altre diciamolo diciamolo proprio questa storia della Champions ha provincializzato il calcio italiano in un modo incredibile e per questo non la vinciamo più che per fattori tecnici secondo me come squadra italiana è da dal 2010 e per questo le ultime due centri sono state figlie di congiunture astrali favorevoli più che di un serio progetto di un e di tanto altro il Milan per me due giocatori fondamentali uno è Giroud ma Giroud ha l'età che ha e l'altro è Teo che di questo passo penso che difficilmente vedremo a lungo al Milan che Teo è forte penso che prima o poi farà il gran passo Leao ha buona partita ma Leao lo vedo sempre un po' troppo fumoso devo dire la verità Monza ha fatto poco o nulla il Monza il Monza solo lo posso dire io trovo veramente il Monza di Palladino è lo specchio perfetto di cos'è la comunicazione sportiva oggi è lo specchio perfetto gli è bastato battere la Juve per assurgere il maestro di calcio adesso non se lo caga più nessuno in fondo è la stessa fama che ha De Zerbi dopo quel 2 a 2 De Zerbi è diventato un mago dopo quel 2 a 2 a Torino basta fare risultato con la Juve diventi Dio è così è così sinceramente ma già nella partita con la Juve l'avevano pareggiata grazie a una papera è difficile che il Milan non vincesse questa partita anche perché ora siamo a metà stagione e squadre come Monza Sassuolo oddio il Sassuolo lontano che un po' più dietro in classifica ora Lecce che ha battuto il Frosinone Torino e qualcun'altra queste sono squadre che d'ora in poi le grandi batteranno tutte le grandi batteranno perché hanno poco o nulla da chiedere a questo campionato che è del brutto di una Serie A a 20 squadre è davvero il brutto di una Serie A a 20 squadre a inizio stagione questa sarebbe stata una partita molto più difficile per il Milan ma il Milan giustamente ha fissato un obiettivo all'insegna del realismo signori siamo terzi continuiamo così battiamo chi dobbiamo battere gli scondiglietti ognuno per sé e per tutti l'importante è raggiungere il terzo o quarto posto quel che sarà e penso che alla fine ci riusciranno perché questa è la deadline del Milan la Coppa Italia e soprattutto l'Europa League ma più la Coppa Italia e l'Europa League potrebbero essere un appendice giusto per arricchire una bacheca che difficilmente vedremo altre squadre oltre all'Inter arricchire quest'anno molto difficilmente Milan 3 Monza 0 dallo studio è tutto linea a voi che vi iscrivete al canale grazie a tutti